Cigep 2024 continua, ci troviamo allo stand dell'Accademia, maestri, pasticcieri italiani e siamo in compagnia del presidente dell'Ampi, Salvatore De Riso. Salvatore, è un gran piacere rivedere. Buongiorno, piacere nostro avervi qua, colgo l'occasione per salutare tutti i nostri telespettatori. Parliamo della vostra presenza stavolta per la seconda volta a Cigep in modo più che strutturato. Beh, devo dire che l'Accademia, come sapete, è ormai nata da più di 30 anni, siamo stati sempre presenti al Cigep con un piccolo stand ma poco conosciuto. Invece sono due anni che abbiamo voluto questo stand così bello, così grande proprio per presentare al meglio, per far conoscere a tutto il pubblico del Cigep, un pubblico che arriva da ogni parte del mondo quello che è l'Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani. Quindi l'esempio più lampante, più preciso, più chiaro di una pasticceria di altissimo livello perché l'Ampi appunto è formata da un gruppo di pasticceri di tutta Italia grandissimi professionisti, tra i migliori pasticceri d'Italia che si confrontano ogni volta, ogni giorno e durante i nostri incontri per promuovere e per migliorare la pasticceria italiana. In queste vetrine che vedete qui nel nostro stand sono esposte alcune delle nostre specialità, sono esposte le torte, le monoporzioni e la pasticceria Mignon ma soprattutto in questo stand è diventato un luogo di incontro per gli addetti ai lavori, per i giornalisti, per i buyer che da tutto il mondo stanno venendo a visitarci e soprattutto durante il giorno faremo delle demo, delle dimostrazioni riguardante la pasticceria e non solo, anche il modo di vendere i prodotti, parleremo di gluten free, parleremo insomma di tante cose interessanti e grande spazio anche ai giovani perché noi siamo un'associazione aperta soprattutto ai giovani abbiamo reclutato circa 20 giovani pasticceri che fanno parte di ampi giovani e che anche loro hanno portato non solo una grande ventata di gioventù ma i loro grandi prodotti perché sono dei professionisti che stanno crescendo e saranno sicuramente il futuro della nostra accademia. Guardando loro lo fai un passo indietro con la mente di un po' di decenni? Assolutamente sì perché quando vedo questi ragazzi 20 anni, 22, 25 anni mi rivedo quando io muovevo i primi passi e mi recavo a Milano e in giro per l'Italia per imparare il mestiere andavo dai grandi maestri per cercare di carpire le tecniche, il lievito madre, le tecniche di produzioni poi in Francia, poi insomma in giro per il mondo e quindi questi ragazzi sono da prendere veramente al nostro fianco e portarli in questo percorso straordinario. Come sapete poi il mio laboratorio è sempre aperto, ne ho tanti che vengono da me anche a visitare ma alcuni lavorano anche presso il mio laboratorio di Tramonti e quindi è sempre un gran piacere quindi mi rivedo spesso in loro, è largo ai giovani, noi dobbiamo stare al loro fianco dobbiamo, chiaramente siamo quelli che abbiamo creato tutto questo ma dobbiamo pian piano metterci da parte e fare largo a loro. Allora prima di andare via perché so che tu hai più demo nelle prossime ore e ti stanno aspettando io una domanda devo fartela perché tutte le volte in cui ci siamo incontrati avevo promemoria la domanda ma non l'ho mai fatta. Tu hai tantissima esperienza, hai un vissuto più che trentennale in questo settore ma non ci hai mai parlato del giorno in cui hai avuto la folgorazione, del giorno in cui hai detto ok questa è la mia vocazione, voglio fare questo mestiere nella vita. Ma guarda io da ragazzino, da ragazzo ho avuto questa voglia di fare questo lavoro perché sono cresciuto in una famiglia dove mia madre era una bravissima cuoca preparava dei dolci straordinari quindi mi appassionavo a guardarla e cercavo sempre di aiutarla e poi mio padre aveva questo piccolo bar tabacchi dove d'estate preparava gelate e granite quindi diciamo che sono vissuto in una famiglia dove ho respirato sempre l'aria dei dolci un'aria che profumava di limone e quindi da ragazzo ho capito subito qual era la mia strada. Salvatore Di Riso, presidente dell'Accademia Maestri Pasticieri Italiani, grazie. Grazie a voi e un saluto a voi tutti da SIGEP 2024.